troppo bello bravo questo ma guarda come riesce a rimanere qua è bravissimo perché lui rimane qua ritorna prima è rimasto in stallo per 40 secondi qui sopra ma dai si si bravo come la rciappa questo è divertente però fare una ruota adesso fare così è divertente ma è bravo questo eh è partito e ripartito tre volte eh guardavo se l'amico è il marito dell'accidente amico grazie grazie che figata ragazzi che figata vedi la propria sta dentro oh ragazzi ah che sei madonna Gabriella a dire la mano quanto se ne ha se ne hai da bevere il caffè ma si ma si sta di via a parte ora e portarlo il caffè scusa e portarlo Alberto pensavo che mi portasse il caffè hai ragione avevi venduto il caffè a dar avevi venduto il caffè a dar perchè quando mi 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 mi